13 pesaresi insigniti del titolo di ufficiali e cavalieri della Repubblica. Verso le elezioni, quattro candidati sindaco di Pesaro si confrontano su Rossini TV. Europee, ecco meccanismi e modalità di voto per gli elettori pesaresi. A Pesaro riparte il servizio delle navette estive gratuite. Alla scoperta di Isola del Piano con il programma L'Isola che c'è. Buona serata e eccoci pronti per il nostro telegiornale. Oggi è lunedì 3 giugno e apriamo questa edizione mostrandovi la festa di piazza del popolo di Pesaro in occasione ieri del 78esimo anniversario della Repubblica Italiana. Una celebrazione in cui la prefettura ha anche consegnato 13 onorificenze a cittadini della provincia pesarese distintisi per particolari meriti nello svolgimento delle loro competenze. I vigili del fuoco si calano dall'alto srotolando il tricolore su piazza del popolo. Verde, bianco e rosso della bandiera italiana che si proiettano anche sulla biosfera. E' una pesaro che come ogni 2 giugno si è raccolta attorno ai valori della Repubblica nella cerimonia per il 78esimo anniversario organizzata da Prefettura e 28esimo Regimento Pavia nel cuore del centro storico assieme allo schieramento di tutti i corpi militari e civili dello Stato. Giornata di festa per tutta la cittadinanza, per tutta Italia perché è la nostra festa della Repubblica quindi è la festa del nostro Stato, della nostra Costituzione. Prefetto che nell'occasione ha consegnato 13 onorificenze a cittadini della provincia distintisi per l'impegno nei loro settori. Insigniti dell'onorificenza di ufficiali l'avvocato Umberto Bianco di Pesaro e il cavaliere Giulio Ronzi di Urbino. Insigniti del titolo di cavalieri il dottor Marco Andreani di Pesaro l'ingegner Silvio Arseni di Petriano, il tenente colonnello Cleto Bucci di Pesaro il luogotenente Vito Conenna di Fano, la dottoressa Anna Maria Mencoboni di Pesaro il dottor Alessandro Panicchi di Mondolfo il comandante provinciale dei vigili del fuoco Leonardo Rampino e poi Alessandro Sartori di Pesaro, il maresciallo Alfredo Severini di Urbino Silvano Severini di Macerata Feltra e il maggiore dei carabinieri Guerino Roberto Spina. Dalla mattinata al pomeriggio Palazzo Ducale si è aperto alla festa della Repubblica degli Studenti attraverso letture e testimonianze sui valori di Repubblica e Costituzione. Questi sono momenti di tutta la cittadinanza, noi qui abbiamo una forte coesione tra tutte le istituzioni e siamo molto vicini ai cittadini e sentiamo anche l'affetto dei cittadini, quindi è veramente una festa per tutti. Ed ora passiamo alla politica. Domani a quattro giorni dalle elezioni amministrative i quattro candidati a sindaco di Pesaro Andrea Biancani, Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci si confronteranno faccia a faccia in una puntata speciale del format di Rossini TV amministrando che trasmetteremo appunto domani 4 giugno in diretta a partire dalle 21 e 20. Il nostro Luigi Benelli solleciterà i quattro candidati sulle principali questioni elettorali che accompagnano questa chiamata alle urne per scegliere il successore di Matteo Ricci. E l'8 e il 9 giugno si vota anche per le elezioni europee in cui l'Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo 15 dei quali verranno espressi dalla circoscrizione dell'Italia centrale in cui è compreso il nostro territorio. Nel prossimo servizio allora andiamo ad approfondire meccanismi e anche modalità di voto per questa specifica elezione. È una scheda elettorale di colore rosso rubino quella che sabato 8 e domenica 9 giugno sarà a disposizione degli elettori della circoscrizione dell'Italia centrale in occasione della chiamata alle urne per le elezioni europee 2024. Nell'occasione l'Italia eleggerà 76 membri del Parlamento europeo 15 quelli che saranno eletti dalla circoscrizione dell'Italia centrale alla quale appartengono i cittadini della provincia di Peserurbino. Elettori pesaresi che potranno votare solo i candidati della propria circoscrizione geografica che prevede Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Circoscrizione in cui sono presenti 12 partiti oliste per un totale di 180 candidati. Si vota tracciando una X sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Se si traccia un segno su più contrassegni il voto risulta nullo. Ogni elettore può esprimere al massimo tre voti di preferenza per candidati che appartengono alla lista prescelta. Nelle elezioni europee infatti non è possibile il voto disgiunto. I candidati indicati nelle preferenze devono appartenere alla lista scelta. Se si decide di esprimere più di una preferenza devono essere indicati candidati di sesso diverso. Ad esempio, se si esprimono due preferenze devono essere un uomo e una donna. Se si esprimono tre preferenze devono essere due donne e un uomo o viceversa. In caso di mancato rispetto delle preferenze di genere verranno annullate le preferenze successive alla prima. I seggi saranno aperti dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo spoglio dei voti comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi delle 23 di domenica. Ed ora cambiamo argomento. A Pesano negli ultimi giorni sono stati denunciati diversi furti di biciclette elettriche, soprattutto nel lungomare. approfittando del fatto che i proprietari dei veicoli fossero in spiaggia. Furti che si sono registrati anche in due abitazioni di Pantano dove i gnoti sono riusciti a forzare i garage e sottrarre le biciclette. C'è stato un incendio oggi nel primo pomeriggio in un'abitazione di strada in sala nel quartiere pesarese di Villa Fastigi a prendere fuoco per cause da accertare i pannelli fotovoltaici posti sul tetto della villetta in questione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno limitato i danni di un rogo che non ha coinvolto persone. Continuano le segnalazioni per quel che riguarda l'abbandono di rifiuti. Le immagini che vi mostriamo, segnalateci da Marco, un nostro telespettatore, denunciano cataste di rifiuti ingombranti scaricati fuori dai cassonetti di Apsella di Montelabate. Foto che documentano anche un atto di vandalismo nei confronti del bidone per il conferimento delle deiezioni canine. A Villa San Martino invece la nostra telespettatrice Teresa mostra con queste immagini come siano stati abbandonati i rottami di Eternit davanti ai cassonetti in strada di Borgeria sollecitando un intervento di rimozione. Intanto il centro operativo del comune è intervenuto sulla precedente segnalazione di rifiuti abbandonati nella spiaggia libera di Fiorenzuola di Focara procedendo ad una curata operazione di sistemazione della remile anche con livellamento e rastrellamento meccanico. Da questo mese di giugno è ripartito il servizio di navette estive gratuite a Pesaro per quel che riguarda Viale Trieste, Sottomonte, Baia Flaminia ma anche con i principali luoghi del Parco San Bartolo. Le telecamere di Rossini TV sono salite a bordo del viaggio inaugurale di questo servizio replicato e potenziato dopo il successo della seconda estate. Allora vediamo il servizio. Gratuite e sostenibili sono ripartite sabato 1 giugno le navette dell'estate pesarese quelle che da diversi anni sono un veicolo pratico e comodo per raggiungere il litorale di Viale Trieste Sottomonte e Baia Flaminia e che dallo scorso anno hanno aggiunto la scoperta del Parco San Bartolo unendo Pesaro e Gabice Mare in navetta attraverso la strada panoramica. Le telecamere di Rossini TV sono salite a bordo del viaggio inaugurale della linea Riviera del San Bartolo che si ripropone nell'estate 2024 dopo che lo scorso anno ha riscosso un ottimo successo di partecipazione. Formula quest'anno potenziata dai comuni di Pesaro e Gabice assieme ad Adribus e ad Apatels che la riproporranno quotidianamente fino al 21 di settembre. Abbiamo prolungato l'orario di ultime corse è possibile rientrare fino alla 23 il servizio quindi dando proprio la possibilità di godere dei posti e dei luoghi in cui lo stesso servizio transita anche fino a tarda sera. Fondamentalmente è una riproposizione ed è un modo per vivere il San Bartolo e il territorio in maniera diversa rispetto a quello che uno può fare con il mezzo proprio. E in più noi siamo convinti che possa essere veramente anche un'attrazione turistica importante perché oggi molti si spostano con mezzi pubblici per il turismo arrivano a Pesaro con il treno perché proprio sono cambiate anche le nostre abitudini. Progetto importantissimo soprattutto per attrarre un turismo che guarda la mobilità sostenibile e un turismo che vuole visitare le nostre zone non solo il mare ma anche la collina e tutte le sue bellezze. Sono già diversi anni che ci lavoriamo assieme al Comune stiamo sviluppando un progetto integrato che si chiama Pesaro in treno con un accordo anche con Trenitalia. Quest'anno la navetta parte prima dell'anno scorso già oggi il primo di giugno partiamo con la navetta questo è molto positivo perché ci permette anche di fare comunicazione di fare una comunicazione importante verso i turisti che verranno a Pesaro e quindi ci piace molto e ci crediamo molto. E riparte anche il ciclo di appuntamenti settimanali fissi per quel che riguarda intrattenimento e cultura nel centro storico di Pesaro. Domani ad esempio tornano i martedì del San Pietrino Summer Street giunti al loro decimo anno in piazza Toschi Mosca. Quest'anno torniamo con 14 appuntamenti 14 martedì dal 4 giugno al 3 di settembre e la novità comunque c'è sempre perché il San Pietrino ormai si sta allargando sempre di più una collaborazione sempre più stretta con artisti esercenti e associazioni della città in modo che questo salotto abbia sempre più risalto. È un anno importante l'anno della capitale della cultura quindi ci sono tante collaborazioni in più avremo serate di musica musica classica e quest'anno la grande novità è che avremo il terrazzino con la musica dal vivo e i ragazzi del Conservatorio Rossini i nostri soliti food truck grande importanza come al solito al mercatino degli artigiani. Martedì 4 giugno vi aspettiamo numerosi dura fino al 3 di settembre tutti i martedì da giugno a settembre. L'Auser Pantano guidato dal presidente Ezio Bracco ha raggiunto l'obiettivo annuale di raccolta di donazioni che sabato le ha consentito di devolvere 5 buoni da 100 euro ad altrettante associazioni di volontariato sociale della città di Pesaro. A beneficiare dei contributi sono state le associazioni Braccia Aperte Genia Aias Isaia e Ceis Ed ora parliamo della strada della Contessa riaperta lo scorso Natale dopo 8 mesi di chiusura 8 mesi in cui il collegamento fra Marche e Umbria ha perso riconoscibilità e centralità negli itinerari dei turisti che si muovono verso le coste marchigiane un valore che ora Confcommercio punta a riacquisire grazie ad un progetto che domani presenterà all'Enit di Roma Confcommercio Marche Nord e l'omologa associazione di categoria di gubbio saranno domani 4 giugno a Roma nella sede dell'Enit per presentare all'Agenzia Nazionale del Turismo il progetto che punta a recuperare su scala nazionale la riconoscibilità della Contessa come la via più breve e comoda di collegamento e favorire il recupero per le imprese del territorio dopo gli 8 mesi di chiusura della strada che hanno dirottato su altre vie e altre località il traffico commerciale e turistico proveniente da Umbria e Lazio noi per rilanciare la riconoscibilità della Contessa come la via più breve per arrivare dall'Umbria alle Marche insieme alla Confcommercio di Gubbio e dell'Umbria abbiamo ideato un progetto che si chiama Contessa una porta tra cielo e terra che viene declinato in tre modalità uno è un itinerario di reno gastronomico il menù della Contessa quindi noi sceglieremo dei ristoranti sia in provincia di Perugia sia in provincia di Pesaro e Urbino fino a Marotta che presenteranno in via permanente quindi non è un progetto che dura una settimana o dura cinque mesi in via permanente questi ristoranti che saranno scelti e segnalati con un'apposita guida proporranno ai turisti piatti o menù della tradizione l'altra iniziativa riguarda invece l'itinerario archeologico quindi dalla romana Gubbio passando per la scheggia dove passava inizialmente in epoca pre-romana ma anche all'inizio quando venne ideata la Flaminia passava appunto la strada Flaminia e sarà un itinerario anche qui con una guida che verrà pubblicizzata dalle due regioni e dalle due Confcommercio in tutta Italia il terzo percorso è legato invece a Federico da Montefeltro quindi dai Montefeltro e della Rovere da Gubbio a Urbino Federico da Montefeltro nasce a Gubbio diventa Duca d'Urbino Gubbio era la seconda città del Ducato e quindi noi raccontiamo questa storia attraverso le realizzazioni di Federico da Montefeltro o comunque della famiglia Montefeltro e della famiglia della Rovere quindi tre itinerari legati ad un progetto che in via permanente vogliono rilanciare la conoscibilità della Contessa come il percorso più breve per riportare i turisti Umbre e Laziali nel nostro territorio Ed ora passiamo allo sport sfortunata gara 1 per Little Service Loreto Basket nel finale playoff di serie B i pesaresi hanno perso 79 a 69 al cospetto della Virtus Roma sospinta dai 3600 spettatori capitolini del Pala Tiziano mercoledì 5 giugno al Pala Megabox ci sarà gara 2 con il Loreto che avrà bisogno di una vittoria per trascinare la finale promozione ad un'altra sfida si è invece conclusa ieri allo stadio Benelli di Pesaro la prima edizione della Vispesaro Cup torneo di calcio giovanile organizzato dalla società Biancorossa che ha convogliato in città 57 squadre e 700 piccoli atleti in rappresentanza di tutte le categorie giovanile dai Pulcini all'Under 17 una partecipata festa sportiva che ieri ha visto l'atto conclusivo alla presenza dell'ex campione del Milan e della Nazionale Massimo Ambrosini a premiare i piccoli calciatori sono stati gli attaccanti della Vispesaro Manuel Pucciarelli e Samuel Blu Mamona e chiudiamo quest'edizione del nostro telegiornale andandovi a raccontare un nuovo programma targato Rossini TV oggi inizia la settimana della cultura 50x50 dedicata a Isola del Piano e allora e proprio nell'ambito di questa settimana c'è un nuovo documentario a puntate che permette di scoprire Isola del Piano lo abbiamo realizzato noi con la conduzione di Nicoletta Tagliabracci si chiama L'Isola che c'è prima puntata in onda mercoledì 5 giugno potremmo definirlo un luogo sospeso per usare le parole di Carlo Bo e infatti il titolo del documentario è proprio L'Isola che c'è dedicata a Isola del Piano che non è circondata dal mare ma da una splendida campagna quindi diciamo che è stata una bella scoperta poter girare questo documentario che è un vero e proprio tuffo nella storia nella memoria nelle testimonianze di quella che è la storia di questo paese Un documentario che si articola su più puntate 4 per la precisione che cosa racconteranno? Sì sono 4 puntate che abbiamo voluto anche un po' diversificare nella loro argomentazione quindi la prima sarà proprio la storia del paese e delle sue bellezze anche a livello turistico e anche di quelle che sono le iniziative da parte dell'amministrazione comunale per la valorizzazione di alcune strutture che sono state come dire restituite con una nuova fruizione alla cittadinanza e la seconda puntata è dedicata alla storia di quel pioniere visionario che è stato Gino Girolomoni quindi l'ideatore dell'agricoltura biologica perché ricordiamo che negli anni settanta proprio da Isola del Piano è partito quel grande movimento di recupero di un'agricoltura buona senza l'uso di pesticidi senza l'uso di veleni anzi un ritorno proprio all'agricoltura più sana biologica appunto e la terza puntata è dedicata invece proprio alla storia di Isola un fatto anche tragico doloroso che è stato il recupero di un bene confiscato alla mafia la fattoria della legalità e da qui abbiamo agganciato anche un riferimento a dei fatti dei partigiani durante la seconda guerra mondiale e infine l'ultima puntata sarà dedicata alle aziende che attualmente lavorano e vivono ed è stato bello notare comunque come tutte abbiano ancora un occhio privilegiato verso la produzione biologica quindi un territorio veramente buono pulito e sano per quanto riguarda le puntate quando andranno in onda le puntate andranno in onda ogni mercoledì a partire dal 5 giugno alle 21 e 20 quindi quattro puntate che più o meno copriremo tutto il mese di giugno ma tranquilli perché ci saranno anche tante repliche se uno si perde la prima quindi 5 giugno prima puntata alle 21 e 20 e allora mi raccomando segnatevi questa data mercoledì tutti su Rossini TV in prima serata per vedere la prima puntata di questo documentario dedicato a Isola del Piano e il mio consiglio è di restare con noi anche questa sera perché subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale troverete un nuovo contenitore dedicato alla natura della cultura e quindi intorno alle 20 potrete avere nuovi aggiornamenti e questa sera alle 21 e 20 il consueto appuntamento con la medicina su Rossini TV con il nostro check up obiettivo salute questa sera parleremo della frattura del polso e avremo con noi Riccardo Lucchetti che è specializzato in ortopedia e subito dopo intorno alle 21 e 40 mi raccomando una nuova puntata di Amministrando in via del tutto eccezionale oggi perché mancano pochi giorni alle lezioni allora questa sera alle 21 e 40 andiamo a conoscere i candidati a sindaco del comune di Montelabate e invece domani a proposito di Amministrando alle 21 e 20 saremo in diretta TV per questo confronto l'ultimo confronto prima delle elezioni per conoscere i candidati a sindaco del comune di Pesaro e quindi Andrea Biancani Marco Lanzi Fabrizio Oliva Pia Perricci saranno intervistati da Luigi Benelli vi ricordiamo anche che lunedì è la giornata della tanto attesa maratona elettorale io e Luigi Benelli staremo in diretta dalle 14 e 30 fino alle 20 e 30 e vi accompagneremo live per scoprire l'andamento delle elezioni dello spoglio delle schede elettorali in tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino e andremo a vedere anche le elezioni europee quindi seguiteci potete farlo sia attraverso il canale 80 sia attraverso la nostra diretta sulla pagina Facebook e anche attraverso il nostro sito internet rossinitv.it domani invece vi aspetto alle 7 e 20 con il consueto appuntamento della nostra rassegna stampa buongiorno Rossini e quindi appuntamento a domani il telegiornale invece tornerà domani alle 19 e 30 in replica alle 20 e 30 buona serata e quindi